La pittura del disegno, la pittura veneziana e la pittura del colore. A Venezia nasce il concetto di tonalismo. Avete presente l'acqua, Venezia è città sull'acqua. In certe giornate, quando tramonta il sole, poi magari sale la nebbia, è come se i contorni si smaterializzassero. Cominciate a intravedere qualche cosa, non è più netto. Venezia non è una città che ha sempre i contorni netti. Tutto si dissolve con questa luce che rimbalza sull'acqua e poi con una nebbia. Come la chiamate la nebbia a Venezia? Caigo. Caigo, esatto. Quindi c'è questa situazione che ha stimolato la pittura. Diciamo che Venezia non sempre è una città a fuoco, nitida. È un po' instabile da questo punto di vista. È la città degli innamorati anche per questo, perché ha queste atmosfere, queste magie e poi tutto quello che è successo a Venezia. Va bene, però mi interessava proprio dal punto di vista pittorico. Uno dei più grandi pittori veneziani si chiamava Canaletto. Lo chiamavano Canaletto e Canaletto lo conosciamo tutti perché ci ha restituito queste immagini di Venezia assolutamente nitide, assolutamente perfette. E uno dei soggetti più ritratti dai pittori veneziani è l'isola di San Giorgio, uno dei capolavori del Palladio. Allora, io adesso vi faccio vedere un po' come è cambiata questa pittura veneziana. Cioè nel Settecento i pittori cercavano di riprodurre la città, diciamo come oggi avviene con le cartoline. Anzi, oggi le cartoline non ci sono più perché mandiamo le foto col telefono, ma fino a un anni fa si mandavano le cartoline. Ecco, la Venezia da cartolina è questa qua, mandiamo pure l'immagine. Grazie. È una Venezia, un'isola di San Giorgio, molto nitida, molto definita, sembra quasi vera, sembra una fotografia. Qui siamo nel Settecento. Duecento anni dopo, pittore di nome Giorgio De Chirico dipinge questo. E vedete che è già una pittura un po' diversa rispetto alla prima. Negli anni venti del Novecento Guidi, Virgilio Guidi, lo dipinge in questo modo. È sempre lo stesso soggetto. E andando avanti ancora nel tempo, Guidi lo dipinge così. Che cosa è successo? È successo questo, che la pittura del Novecento è una pittura che tende a togliere, si arriva a una sintesi di luce, nel caso di Virgilio Guidi. Cioè, non è più importante dipingere i dettagli come dipingeva Canaletto, perché nella seconda metà del Novecento ci sono già le macchine fotografiche molto sviluppate, c'è la telecamera, c'è la cinepresa, c'è il cinema, c'è la televisione. Allora, sulla scia proprio della pittura veneziana, Guidi, Virgilio Guidi, non dipinge più il dettaglio, il particolare, ma dipinge l'essenza. Guardiamo adesso, faccio vedere questo passaggio tra la pittura del 1700, mandiamola, lo stesso soggetto che duecento anni dopo diventa questo. vedete? Ecco la luce, ecco quell'essenza, ecco quelle giornate in cui a Venezia non riesce a cogliere, cioè riesce a cogliere solo l'insieme, non il dettaglio, perché c'è questa luce, questa atmosfera. Ecco, questa è un po' in pillole, lo sviluppo di questo modo di pensare alla pittura, cioè questo ragionare non più per dettaglio, ma per sottrazione. Ecco, Sant'Omaso si colloca in questo momento. Sant'Omaso è un pittore che vive tra il 1907 e il 1990, vive a Venezia, conosce molto bene tutto quello che vi ho detto e ancora di più, però si colloca in un'epoca dove non puoi più dipingere come dipingevi nel 700, perché non ha senso. Nel 700 ci si vestiva in un modo, oggi ci vestiamo in un altro. E, forte della lezione anche di Guidi, porta all'estremo questo modo di pensare alla pittura, arrivando a una sintesi assoluta, dove noi cogliamo solamente qualcosa che può essere l'essenza, ma oltre l'essenza. Ed è quello che adesso vi faccio vedere. Quello che vi faccio vedere, perché questa è poesia vera, ecco, qui siamo davanti a uno dei grandi poeti della pittura italiana del Novecento. Ed è questo. Ecco, per arrivare a questo ci vuole una sensibilità, ma soprattutto una conoscenza di quello che c'è stato prima. Questo che vedete è quello che vi ho fatto vedere prima, è sempre Venezia. Questo può essere un edificio, questo può essere l'acqua, questo può essere... ma è la sintesi estrema di tutto, avviciniamoci, grazie, di tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Che cosa resta negli anni 70? Resta questo. Ecco, un frammento, una visione, questo è colore, è luce. Questa può essere, ripeto, magari un'architettura vista dall'alto. Sono forme, ma partiamo sempre da un elemento figurativo. Questa è la stessa immagine, è la stessa Venezia che in un modo dipingeva Canaletto, in un modo dipingeva Guardi, in un modo dipingeva Bellotto, tutti i pittori di quel periodo, e poi dopo ha dipinto De Chirico, e poi dopo ha dipinto Guidi, e poi è arrivato lui e ha tolto tutto quello che c'era di superfluo ed è arrivato all'essenza. Eccolo qua. Ed è riuscito con una pittura veramente straordinaria, raffinatissima, originale. Parliamo di uno dei più grandi pittori che abbiamo avuto nel secolo scorso. Vedete, qui con l'uso del collage, questo è un cartoncino incollato sopra, sono tutti esemplari unici, dipinti, costruiti, realizzati con pittura, con elementi incollati, con tracce di colore. E poi, per poi arrivare a un lavoro meraviglioso del 1976, che è questo. E gli azzurri di Santo Maso sono famosissimi, perché appartengano solamente a lui. Ecco, qual è stata la strada che ha portato Santo Maso a realizzare queste opere. E adesso vi faccio vedere un'altra immagine, che ci riporta invece a un periodo precedente. Poi torniamo su queste, poi torniamo. Questa sintesi, questo arrivare alle forme, alla luce, che è la grande conquista del Novecento. Il Novecento ha questo rispetto ai secoli passati, è una conquista del pittore, quello di dipingere solo delle forme, delle luci. Questa cosa qui si chiama astrattismo e nasce all'inizio del Novecento, nasce quando nasceva Santo Maso. Vi faccio vedere uno dei protagonisti della pittura astratta, che si chiamava Vassili Kandinsky, probabilmente il padre della pittura astratta. Guardate come nasce la pittura astratta. Kandinsky viveva vicino a Monaco di Baviera, in un paese che si chiama Murnau, che è questo. Vedete, è un quadro molto colorato, dove si riconoscono le case, gli alberi, il cielo, le nuvole. Molto colore, ma un quadro figurativo. Siamo nel 1908, guardate cosa succede l'anno dopo, 1909, l'anno dopo. Si vede un treno, si vedono ancora delle case, si vedono ancora delle nuvole. Si capisce che cos'è il soggetto, 1909. Guardate adesso, 1909, 1910. Qui il paesaggio incomincia a perdere la propria fisionomia. Vedi? Le case, il campanile, i prati, le montagne, però cominciano a perdere la propria fisionomia. 1910, 1911. È sempre il paesaggio di prima. Però non c'è quasi più niente del paesaggio di prima. E poi si arriva a questo. E dopo di questo si arriva a questo. Questo quadro che state guardando del 1923 parte da questo. Il passaggio è 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedi? Qui le montagne sono diventate dei triangoli. Il sole è diventato un cerchio giallo. Ecco, questa è la grande conquista dell'arte del XX secolo. Un'arte che non rappresenta più la realtà, ma che diventa autonoma, fatta di forme e di colori. Questo è il grande momento di Kandinsky all'inizio del Novecento. Ecco, in una dimensione lirica, onirica, poetica, abbiamo la pittura di Sant'Omaso. Giuseppe Sant'Omaso, che conosceva molto bene la pittura di Kandinsky perché l'aveva visto alla Biennale di Venezia, elabora la sua pittura, ma anche lui togliendo. Togliendo, c'è un palazzo, c'è il canal grande, c'è una gondola, c'è un vaporetto, c'è il cielo. Comincia a togliere, a togliere, a togliere. Il palazzo comincia a vederlo in una forma e basta. La gondola ha una forma, il sole ha una forma. Poi togli, togli, togli e quello che resta è questo. E beh, ma questo, capisci, non è un pittore qualsiasi. Questo è Giuseppe Sant'Omaso. È lui quello che ha portato avanti la pittura veneziana fino ad arrivare a questa sintesi. Allora, quanto misurano, fatta la presentazione, quanto misurano queste opere? Allora, le piccole misurano 32 cm per 25, quella più grande, che è una, insomma, molto più grande, misura 65 per 50. Ecco, qui, se volete chiedere il prezzo, ecco, questo, Sant'Omaso, non è solamente un bel acquisto, un bel quadro. Sant'Omaso è un grande artista da comprare oggi anche come investimento. Ci tenevo molto a presentarvelo perché sono tre cose di assoluta poesia, di grande importanza. Rivediamole, grazie. Voglio sentire qualche amico o amica telefonare per chiedere il prezzo. Di solito quando si parla di storia dell'arte in televisione la gente sparisce, ha paura, cambia canale. È il motivo per cui non fanno mai le trasmissioni sull'arte, fanno bene e per la gente non le guarda. Io me ne accorgo perché ogni volta che faccio la lezione o sull'astrattismo o su qualche cosa c'è il silenzio degli innocenti, non telefona più nessuno. Vabbè, non fa niente, non posso farne a meno. Io sono fatto così e continuerò a comportarmi in questo modo. Questo è un quadro meraviglioso. Questa è una cosa veramente importante. Certo, poi ci sono i dipinti ad olio, vabbè, quelli ovviamente costano 30, 40, 50 mila euro, dipende. Questi hanno dei prezzi molto inferiori perché sono delle tecniche messe su carta che però io non cambio con i dipinti ad olio. Qui, guarda, ti posso dire una cosa, neanche questo, i due piccoli sono una cosa veramente unica. Mi hanno portato un cioccolato, vedi, questi sono i bei gesti della vita. Grazie, grazie, grazie. E lo so, costano, dipende. Cioè, non stiamo parlando, anzi, stiamo parlando di un grande artista. È chiaro che un pittore minore costa meno, è evidente, no? Dipende un po' che automobile vuoi. Ci sono automobili che costano 10 mila e altri 100 mila, 200 mila, sempre un'automobile. Questo è un caposcuola, un artista di fama internazionale. Poi ci sono i pittori bravi che costano 1000 euro, 800 euro, 500 euro, 1500 euro, dipende che cosa vuoi comprare. Questo è Giuseppe Santomaso, è come dire afro, è come dire vedova. Questi sono i grandi pittori di quel periodo che hanno dipinto una pittura non figurativa. Questo è poesia vera, questa è una meraviglia. Un quadro come questo è da consigliare ai collezionisti che vogliono mettere la storia dell'arte in casa loro. Poi ci sono i collezionisti che vogliono mettere la decorazione, quelli che vogliono il quadro che sta bene con le tende, ma quello è arredamento. Un'altra cosa. Questo invece è lui nella sua essenza. Vedete, uno dei grandi equivoci della storia dell'arte è quella di considerarla in base al virtuosismo. Cioè, quanto più un pittore eccede, tanto più ci piace. Invece, il ventesimo secolo, rispetto a tutti gli altri, è un secolo che ha tolto, anziché aggiungere. Prendiamo la poesia. Voi prendete la poesia di Dante, la Divina Commedia. Oppure prendete un poeta anche del 600, quello che volete voi. E poi prendete un poeta del 900. Tutti i ricordi quando a scuola studiavamo, mi illumino d'immenso. È una poesia quella. E dice, ma come? Mi illumino? È una poesia. Si sta come gli alberi, ed è subito sera. Poesie. La lirica, la poesia del 900, spesso è una poesia che risente di un clima diverso. Nel 600 c'è la meraviglia, lo stupore. Pensate a Marino. Ecco, nel 900 ci sono due guerre mondiali. Ci sono milioni di morti. C'è la bomba atomica. Cioè, è un secolo completamente diverso. La poesia ne risente. E quindi, anziché aggiungere, si toglie. Si arriva all'essenza. Mi illumino d'immenso. Eccolo qui. Capito? Chi non conosce l'arte, chi non la frequenta, non vede qui un'opera d'arte. Perché pensa che l'opera d'arte sia fare canaletto. Sia dipingere come canaletto. Questa è un'altra cosa. Adesso che vi ho fatto vedere queste tre opere di Sant'Omaso, finisco questo discorso estremono di arrivare a cogliere l'essenza, la luce. Quello che faceva Monet, il primo di tutti, a ragionare in questo modo, è stato un pittore francese che si chiamava Claude Monet. E che è considerato il padre di un genere pittorico che si chiama impressionismo. Ecco, se voi vedete le opere del periodo senile di Monet, quando lui è molto anziano, Monet dipinge la luce. Si era fatto fare un giardino molto grande a Giverny, con le ninfee, ma non che lui fosse un botanico. Gli piacevano certo i fiori, ma a lui gli piaceva l'effetto della luce sull'acqua. Se vedete gli ultimi quadri di Monet sono evaporati, evaporato tutto, si è smaterializzato tutto. C'è una sola cosa che rimane ed è la luce. Ecco, io ho conosciuto un pittore milanese che è morto poco tempo fa, un mio carissimo amico, che si chiamava Valentino Vago. E Valentino Vago ha lavorato tutta la vita per arrivare a questo. Quando è morto Valentino Vago io sono andato al suo funerale nella chiesa milanese tutta dipinta da lui. Ma non c'erano dei soggetti, c'era quello che è l'essenza di Dio, cioè la luce. Lui ha dipinto la luce. Vedete, quando i pittori invecchiano, diventano maturi, hanno già dimostrato di saper fare. Nel periodo senile, ma non solo i pittori, anche noi non abbiamo più bisogno di dimostrare. C'è quella calma, quella saggezza. Ecco, in pittura questo diventa assenza di virtuosismo, diventa cogliere l'essenza. Lo vedete bene in Michelangelo, nella pietà ultima, la pietà rondanini, è incompiuta, è non finita. Lo vedete bene in Tiziano, l'ultimo Tiziano è non finito. Non perché era cieco, come dicevano, no, perché tu capisci che un'opera d'arte non arriverà mai, mai alla vita. Si ferma sempre un po' prima, non ce la fai, non parla, non si muove. Allora si coglie l'essenza. Mi spiego? Quando, faccio vedere l'unico quadro che ho di Valentino Vago, oggi sono diventati richiestissimi. Già lo erano prima, figuriamoci dopo la morte. Vedete? Andando oltre San Tommaso, si arriva a questo. E questo che cos'è? E' quello che vi ho detto prima. Chiamatelo cielo, chiamatelo luce, chiamatelo acqua, quello che volete. E' un azzurro. E' un azzurro che si illumina. Mi illumino d'immenso. Eccolo qua. Grazie. 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 Grazie.